Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi mostro uno strumento nuovissimo che ci permette di creare dei brevi video di altissima qualità in modo completamente gratuito. Vi mostro alcuni clip. Avete visto che la qualità è molto alta? Per adesso lo strumento è gratuito e non ha limiti di generazione. Chiaramente ha anche un lato negativo che è la durata dei video, un po' come succede per molti di questi strumenti, ma ne parliamo tra poco. In questo video vi faccio vedere come utilizzarlo e farò anche una comparazione con Pika, altro strumento per generare video. Vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati. Dobbiamo andare su hyper.ai, vi lascio il link in descrizione. Clicchiamo qui e ci registriamo al sito. Una volta fatto, ragazzi, questa è l'interfaccia che ci troviamo davanti. Come vedete è molto semplice e intuitiva. Allora, qui sulla sinistra abbiamo la classica Voce Esplora, dove possiamo vedere i video generati da altri utenti. Andiamo a vedere qualche video, ad esempio questo qui. Vedete che la qualità è veramente molto alta. Guardate qui anche i dettagli del cane, il movimento dell'astronauta. Sulla seconda voce abbiamo le nostre creazioni. Qui abbiamo i nostri preferiti, che praticamente se noi qua andiamo a mettere il cuoricino, ce li salva in questa sezione. Qui abbiamo il nostro profilo, quindi è molto semplice come interfaccia, è veramente essenziale. Qui sopra invece abbiamo le diverse modalità. Principalmente sono due. Possiamo generare un video partendo dal testo, quindi inserendo un prompt qui sotto. Con questa particolare modalità ci genererà un video in HD. Mentre con la seconda, quindi anima la tua immagine, possiamo inserire un'immagine, accompagnarla ad esempio con un prompt e generare un video partendo da quell'immagine, sempre in HD. Prossimamente uscirà quest'altra modalità. Puoi cambiare lo stile, il colore, il soggetto nel tuo video con un semplice prompt. Poi possiamo creare anche un video, sempre partendo dal prompt, però attenzione che questo qui non è in HD. Vi faccio vedere tra poco. La stessa cosa vale per l'immagine. Cosa molto interessante che sta arrivando. Stanno per implementare questa modalità, un po' come pica, che è praticamente l'estensione della durata del video. Ok? Ora andiamo a vedere come creare un video. Una volta selezionata la modalità possiamo scrivere il prompt qui sotto. Come vedete qui sopra ci escono questi stili, quindi se noi andiamo a cliccare ci migliorerà il nostro prompt. Qui possiamo decidere se tenere pubblico o privato il nostro video. Da qui invece praticamente nella versione in HD possiamo generare solamente un video della durata di due secondi. Ora questa diciamo è la nota negativa per quanto riguarda la generazione di un video in HD con questo strumento. Però ragazzi vi devo dire che da quello che ho letto anche sul loro blog, ce lo dice anche qua, che tra poco potremo generare fino a quattro secondi, ma molto probabilmente a breve ci faranno generare anche video un po' più lunghi. Secondo me con l'uscita anche di Sora, di OpenAI, tutti questi strumenti dovranno per forza di cose aumentare questo limite che impongono nella generazione dei video, ragazzi, perché se no altrimenti non riescono a stare al passo. Quindi abbiamo detto che qui possiamo scegliere la durata. Qui possiamo mettere il seme. Allora l'ho spiegato un po' di volte nei video. Praticamente il seme, ad esempio se noi andiamo a prendere questo video, vedete che qui c'è il seme. Andiamo a copiare questo numero. Lo inseriamo qua. Con questo codice andiamo a creare un video simile a questo qua, quindi con lo stesso stile praticamente. Facciamo questa prova, clicchiamo su crea. Come vedete ha iniziato a generare il nostro video. Ora vi faccio vedere una prova che già avevo fatto. Il cavallo in effetti si muove poco, però lo stile di questo video è molto simile all'altro video. Ora vi voglio far vedere la differenza tra un video in HD e un video normale. Qui vi ho generato un video con questo prompt utilizzando la modalità non in HD. Possiamo vedere che la qualità è come quella di tutti gli altri strumenti che generano questi video. Non è niente di particolare. Anche questa qua, guardate. Ora però vi faccio vedere che cosa succede se andate a generare il video in HD. Ecco ragazzi, vedete che il prompt è lo stesso? Vedete che la qualità è veramente incredibile. Certo, sono due secondi, quindi servono tra virgolette a poco. Però pensate quando ci permetteranno di creare 30 secondi, 60 secondi di video e allora le cose cambieranno di molto. Un'altra cosa che vi volevo dire è che se noi andiamo a creare il nostro video non utilizzando la modalità in HD, ma quella normale, vedete nelle impostazioni abbiamo la durata di 4 secondi. In più, ragazzi, possiamo decidere il livello di movimento. Quindi attiviamo questa opzione e possiamo decidere il soggetto nel video, il video in generale, quanto si deve muovere. Ok, io di solito lo tengo a 5. Un'altra cosa che possiamo fare, come vi ho detto prima, possiamo praticamente animare un'immagine. Questa, ragazzi, secondo me per adesso è la modalità che ci potrebbe servire di più. Perché? Andiamo a vedere. Selezioniamola. Qui dobbiamo caricare la nostra immagine. Ad esempio io ho caricato l'immagine di questo piccolo pappagallo. Vado ad inserire questo semplicissimo prompt. Clicchiamo su Crea. Ecco ragazzi che ha finito. La qualità è veramente altissima. Ora, partendo proprio da questa cosa qua, se andiamo a fare una comparazione con Pika, ho fatto diverse prove e devo dire che la qualità è molto differente. Quindi andiamo a fare questa comparazione. Sulla sinistra vedete il video di Hyper e sulla destra quello di Pika. Guardate la differenza. Dalla clip di Hyper non notiamo assolutamente che è creata con l'intelligenza artificiale. Mentre per quanto riguarda Pika, vedete che poi alla fine ci va a cambiare l'occhio, ci va a cambiare dei colori e quindi si nota comunque che è stata generata con l'intelligenza artificiale. Ma possiamo vedere anche da quest'altro video. Ci tengo a precisare che i video sono stati generati con lo stesso prompt. Vi faccio vedere. Anche da questa clip si vede che la qualità è veramente altissima per quanto riguarda Hyper, mentre Pika di certo genera video più lunghi, di certo abbiamo diverse opzioni per generare i nostri video, però parlando proprio solamente ed esclusivamente della qualità con questi prompt eccetera eccetera, possiamo notare che almeno per il momento la differenza è molto ampia. Vi faccio vedere quest'ultimo esempio. Ho inserito questo prompt, un video super dettagliato di un fiume. Questo è il risultato. Ho fatto la stessa cosa con Pika. Questo è il risultato che mi ha dato Pika. Quindi come vi dicevo ragazzi, se vogliamo confrontare Pika e Hyper o altri strumenti e li vogliamo confrontare sulla lunghezza e sulle impostazioni che possiamo cambiare, è chiaro che Pika ed altri strumenti sono migliori perché ci danno la possibilità di lavorare su più impostazioni. Ma se vogliamo valutare la qualità di queste clip, secondo me Hyper è molto più avanti perché le clip generate sono veramente di una qualità superiore. Sicuramente aumenteranno la durata anche perché la concorrenza va veloce e quindi per avere persone che poi utilizzano lo strumento bisogna per forza di cose migliorare sempre di più, altrimenti non avrebbe senso. Pensate solo a dove eravamo l'anno scorso, ad esempio con le immagini e dove siamo adesso. In pratica ragazzi con i video è la stessa cosa. Fatemi sapere nei commenti se per voi ad oggi il migliore è Hyper o Pika. Se vuoi rimanere sempre aggiornato su questi argomenti ti invito ad iscriverti al canale, attivare la campanellina e lasciarmi un like. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!